E la Puglia al terzo posto in Italia con la Toscana per numero di bandiere blu conquistate. Sono 17, sono state conferite per l'eccellenza delle acque marine ma anche per il rispetto e la sostenibilità ambientale. Sentite. Tra le 15 località italiane ad aver ottenuto la bandiera blu che certifica la salubrità delle acque marine ci sono tre new entry pugliesi. Si tratta di Monopoli, Biceglie e Nardò, mentre tra gli approdi turistici c'è il Marina Resort di Biceglie. Sono complessivamente 17 i comuni sulle cui spiagge sventola l'ambito vessillo sinonimo di acque di balneazioni eccellenti. Le bandiere blu 2021 sono state assegnate ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici come riconoscimento anche per la sostenibilità ambientale. I dati che premiano le acque del mare sono stati elaborati in base ai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi quattro anni le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno effettuato nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica. La Puglia ha conquistato con la Toscana il terzo gradino del podio nella 35esima edizione del riconoscimento. Le spiagge su cui sventolerà la bandiera sono per la provincia di Foggia, le Isole Tremiti, la Baia dei Pieschici e Zapponeta. In provincia di Barletta-Andriatrani ci sono Margherita di Savoia e Biceglie, nel Barese ci sono Polignano a Mare e Monopoli, nel Brindisino Fasano, Carovigno e Ostuni, mentre Castellaneta, Castellaneta Marina, Maruggio e Ginosa per l'area Tarantina e infine Melendugno, Otranto, Salve e Nardò, nel Salento. La bandiera blu viene conferita in base a 32 criteri del programma che vengono aggiornati periodicamente. Tra gli indicatori presi in esami ci sono la validità delle acque di balneazione secondo regole più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, regolare i campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva ed efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, allacciata almeno all'80% del territorio comunale, spiagge dotate di tutti i servizi e di personale addetto al salvamento, accessibilità per tutti con l'abbattimento delle barriere architettoniche.